Gentili telespettatori, buona giornata. Dove si imbuca il grande capo del PD Schlein? Beh, questa ve l'avevo semi-raccontata, ve la racconto meglio. Schlein preferisce Zacchi a Prodi. Perché? Zacchi parla in inglese, manco parla l'italiano. Si improvvisa a fare il comizietto, mentre Prodi è un veterano del PD e vede le cose come stanno. Quindi per Schlein è meno pesante andare a sentire Zacchi lì in prima fila che andare ad ascoltare le parole intelligenti che dice romano Prodi, che parla di un PD allo sbando totale. Lui che era proprio uno degli sponsor di Eli Schlein, si starà mangiando le mani. Ecco. Giorgia Meloni intanto nel frattempo riceveva i leader africani a Roma per un futuro del continente e dell'Europa sul tema dell'immigrazione e dello sviluppo economico. La stessa sera di questa giornata impegnativa per la Meloni, Eli Schlein arrivava da dietro correndo, non l'hanno vista arrivare, e si accomodava in prima fila per ascoltare il leggendario Patrick Zacchi, l'ingrato, che non sapendo neanche parlare in italiano, e poi tra parentesi mi sono chiesto più di una volta come ha preso una laurea senza sapere l'italiano. Ascoltare, quindi Schlein arriva in prima fila e si mette lì ad ascoltare il verbo, il comizietto improvvisato in inglese, pensate un po', di Zacchi sull'immigrazione in Italia, clandestina. Lui spiega in un'altra lingua che dovrà, vorrà occuparsi dei diritti umani, perché a lui è andata bene, ma ad altri no. Bene, da una parte la Meloni, che dopo domani sarà la Casa Bianca, e l'altra donna, quella che sta facendo del PD, l'albergo di avventurieri che si riempiono la bocca, di principi, per trovare un modo per sbarcare il lunario, perché Patrick Zacchi sta cercando lo stipendio, dice sono famoso, mi conoscono tutti, mi fermano per strada, mi sono dichiarato di sinistra, adesso aspettiamo l'offerta economica, aspettiamo che mi candidino da qualche parte, anche se poi lui non ha i documenti per essere candidato da nessuna parte, lui aspetta quello. Beh, naturalmente guardate che se lui avesse ringraziato Giorgio Meloni, se la prima cosa in Italia che avesse fatto era ringraziare Giorgio Meloni, chissà che a Giorgio Meloni fosse passata magari per la testa l'idea di candidargli la cittadinanza italiana con una procedura molto più veloce del solito, e lui con la cittadinanza italiana poi si sarebbe potuto candidare con la sinistra, invece lui furbo, non ha ringraziato chi lo ha salvato e chi potrebbe aprirgli le porte anche a una cittadinanza molto veloce. Ebbè, ma la furbizia si paga, quel tipo di furbizia, quel genio indiscusso si paga. E così la capa, al posto che andare ad ascoltare Romano Prodi, che la sera prima, sempre a Bologna, l'ex capo dell'Ulivo, che rimane oggi il solo della famiglia Demme a fine di aver sconfitto nelle urne il centrodestra, aveva fatto il suo primo intervento pubblico, parlava di Europa, lui che qualche titolo c'era per parlare di Europa, essendo stato capo unico italiano di economia e di futuro della sinistra, ed è stato proprio un personaggio che ha militato in Europa. Ma lei, la Schlein, come si dice, non voleva andare a sentire Prodi che gli diceva, o che le dicesse che il partito è ridotto a una schifezza, perché si sentiva poi accusata. E allora lei, che sa già tutto, non è andata, ha preferito disertare e tenersi libera per la conferenza dello studente egiziano di letterature moderne comparate postcoloniali. Ecco, questo era il corso di studio di Zacchi, letterature moderne comparate postcoloniali. Ma in queste letterature moderne comparate postcoloniali ancora devo cercare di capire, o qualcuno mi deve spiegare, non sapendo l'italiano come ha fatto a laurearsi, perché per laurearsi in Italia, fare un'università, devi sapere l'italiano a livello B2. Che poi l'Università di Bologna faccia dei corsi in inglese, faccia dei corsi universitari per stranieri in inglese, dove tu puoi venire e prenderti la laurea in inglese. Però questo non lo so. Il Prodi non ha gradito la non presenza del capo politico proprio mentre lui parlava. Così non ha degnato di un commento la segretaria. Pensate che Schlein era una fans di Prodi, gli portava le magliette, vi ricordo c'era un giro delle fotografie, gli portava le magliette omaggio, gli diceva noi siamo con te, lui che vedeva sta ragazza che faceva il tifo. Quindi una Schlein che adorava questo Prodi adesso non si presenta neanche più, perché Prodi l'ha criticata, direttamente e indirettamente facendo capire che il PD di oggi è una schifezza. Ecco, quello praticamente Prodi ha detto in poche parole. E così non ha voluto neanche commentare la mancanza della Kappa alla sua esposizione, diciamo così. E così Zacchi ha fatto un provino politico davanti a quella che presto potrebbe essere il suo capo, la Schlein. Le europee sono vicine, Zacchi non ha la cittadinanza, non parla una parola di italiano, ma i ben informati insinuano che potrebbe essere una delle figure della Schlein per Bruxelles, visto che a uno a uno la signora si sta liberando di tutti i dirigenti prestabiliti dal PD. Ecco, avete visto che piano piano li sta cacciando uno per uno dai ruoli chiave. Certo, bisogna capire come potrebbe fare questo Zacchi ad avere la cittadinanza. Intanto la segretaria si imbuca alla festa di Zacchi, per il cui destino non si ricordano battaglie particolari. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.